Nanni Sale, presidente del progetto Farfalla di Nuoro, da qualche tempo sta collaborando con la palestra l'olimpionico cubano Gabriel Arteaga. Innanzitutto chi è e quali sono gli obiettivi di questa collaborazione? Allora, Gabriel Arteaga è un olimpionico, un ex della nazionale cubana, ha 42 anni, è stato uno degli atleti più rappresentativi che Cuba abbia mai avuto nella categoria 81 kg. Ha fatto due olimpiadi, una a Sydney e l'altra ad Atene, ha vinto per tre anni consecutivi il Guido Sieni di Sassari, che allora era una delle gare più importanti nel circuito mondiale di Judo. La scelta è legata fondamentalmente al progetto che abbiamo per i nostri ragazzi, che è quello della valorizzazione agonistica dei ragazzi del progetto Farfalla. Abbiamo deciso di andare in Italia a combattere, stiamo andando anche in Francia e questo fa sì che questi impegni agonistici siano anche valorizzati da un tecnico di questo livello, perché la valorizzazione dei ragazzi deve essere a livello tecnico molto, molto, molto alta e appunto seguiti anche da tecnici di questo spessore. Appunto per rimanere in tema, già da domani iniziamo a prendere la nave e andiamo a combattere nel trofeo internazionale dell'Alpiadra, che è uno dei più importanti trofei che c'è nel circuito europeo. E questa è la prima tappa di circa 12-13 gare che abbiamo messo in programma oltre mare appunto per i nostri ragazzi. E poi c'è anche una ragazza che stiamo valorizzando anche a livello europeo, che abbiamo deciso di fargli fare anche l'European Cup, essendo lei insieme ad un'altra ragazza di Cagliari l'unica ragazza in tutta la Sardegna che possa fare questo trofeo.